Crisi finanziaria e possibile via d'uscita, tema importante affrontato oggi a Gela in un periodo assai difficile per i commercianti e gli imprenditori. L'iniziativa si è svolta nei locali della Chisetta San Biagio, presente Domenico Raneri, revisore legale ed esperto in diritto bancario. Esistono degli strumenti per cercare di aiutare le persone che si trovano oggi, ahimè, colpite da una situazione di sovrintebitamento particolarmente rilevante. E quali sono? Per esempio la legge 3 del 2012 sulla composizione della crisi delle famiglie, vari interventi legislativi della riforma della legge fallimentare come la composizione della crisi di imprese, l'articolo 182 bis, l'articolo 67, vari strumenti che debbano essere conosciuti e possono essere particolarmente apprezzati da chi vi ricorre. L'avvocato Salvatore Pseila Abbiamo fatto informazione su quegli strumenti fondamentali indispensabili che possono dare una bellissima mano d'aiuto a chi si trova in una situazione di crisi finanziaria con la propria impresa, la propria azienda. Perché queste nuove leggi, queste riforme, questi strumenti che sono stati inseriti nel corpo del diritto fallimentare possono dare una mano d'aiuto agli imprenditori, anche agricoli, commerciali, artigiani, professionisti, anche il singolo consumatore. L'iniziativa di oggi porta le firme di Confesercenti, Confocommercio e Casa Artigiani del Golfo. Noi abbiamo messo a disposizione i nostri uffici, quindi tutti coloro che hanno bisogno di parlare in privato con i nostri professionisti si possono rivolgere alla Confesercenti che è in via Corso Vittorio Emanuele 45. Confocommercio si farà partecipe con le altre associazioni datoriali di accompagnare i nostri iscritti e tutti coloro che ne hanno bisogno all'utilizzo corretto degli strumenti normativi previsti. Perché spesso per non conoscenza non si sanno che c'è la possibilità di attingere a finanziamenti, a sistemi che permettono anche di andare a durire nel tempo i debiti sia con lo Stato che con i fornitori. L'imprenditore che non ce la fa, che ha bisogno di ossigeno, ci sono dei servizi finanziari messi ad hoc per quanto riguarda il nostro gruppo Artigian Cazza, credo agevolato, per avere un po' di ossigeno. Presente anche l'amministrazione comunale. L'amministrazione di oggi consentirà a molti operatori di accedere a quegli assi di finanziamento della comunità europea che molte volte non vengono utilizzati perché le persone non sanno e non conoscono. Quindi un'azione del genere nel territorio già è una possibilità di crescita perché consente di attingere a quei finanziamenti che sono vitali per le aziende. E' uscita una legge che si chiama legge salvasuicidi, proprio sui sovrindebitamenti. Oggi gli organismi qui presenti ci spiegheranno come attivarla. L'intenzione del Comune è quella di aprire un tavolo, un ufficio dove la gente possa venire, spiegare le motivazioni, presentare il loro credenziale e capire se è possibile, attraverso quella legge, provare a salvaguardarle, almeno nella tutela al reddito.